Entra all'angolo rosso, all'angolo blu, lui fa l'assimulatore del canico di moto, Daniele Dante! Ed ora, in sospedante, all'angolo rosso, lui è un pubblico ufficiale, entra Alessandro Marcozzi! Applausi! E' un'altra parte di giro! E' un'altra parte! E' un'altra parte di giro! Gira, bravo, gira Daniele, gira, gira, gira. Vieni su, vieni su, vieni su, vieni su, vieni su, vieni su, vieni la gamba, vieni la gamba, vieni la gamba. Va bene, va bene, ora a parete Alessandro, quello che abbiamo sempre fatto. Gira, lancia la luccina. La ferrate di me con la testa, usa la testa, usa la testa, brosca la gamba. Gira lo te, Daniele, veniva a parete. Ehi, ma non ci non più, tira, tira, tira. La ferrate di me con la testa. Due poche, sì. Ma, Daniele, come prima, Daniele, va bene, va bene. Sulla guardia, Daniele. Alessandro, tranquilli. Due passi. Trasce il gamba. Non ci troviamo. No, 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 vai, ma accetto, Daniele. Brasso e gambe. Buono. Bravo, capito. Scriva, scriva, scriva il braccio destro, Daniele. Scriva il braccio destro, Daniele. Dai là, blocca col braccio, metti i croci di piso. Bravo, esce fuori, esce fuori col sedere. Sì, 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 sì. Lavora il braccio, amarete. 10 secondi, respira, non è finito il primo. Vieni là giù. Vieni in giù. Bravo. Vai, Daniele. Vai, Daniele. Ah, no, io sono tu. Bravo, io sono tu. Vieni in giù, vieni in giù. Vieni in giù, vieni in giù. Vieni in giù, non ti fa mettere i spazi. Vieni in giù, non ti fa mettere i spazi. bravo vai in base vai in base va bene vai Daniele destra un colpidito tu sta guardia tu le mani all'insalto vai vai tu le mani all'insalto Daniele vai Daniele vai Daniele vai c'è il ginocchio c'è il ginocchio Daniele martello desto martello desto Daniele esci con il serena verso il sinistro esci con l'anca verso il sinistro Daniele da l'altra parte verso il sinistro esci 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 vai sulla gamba vai con stu tienimelo giù e vai con sulla gamba 20 secondi 20 secondi Daniele schienillo giù Daniele lega 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 non lo manzano non lo manzano lega Dani 5 secondi lega Daniele lega prendigli un braccio prendigli un braccio vaiJennifer la braccia tu ma come prima e signor Lovatore vai sul sincol vai sul sincol ginocchio sincol sta finita stai tranquillo sta finita stai schimare a destra conto e cina ok un minuto stai un braccio sfimato stai dentro stai dentro a quel braccio sfimato vai a destra stai ora fai con stuna libera la destra e fai con stura monta alto monta alto monta alto bravo bravo mano sul petto mano sul petto mano sul petto e fai con stura monta alto riprendi la destra monta alto monta alto ok Daniele vai sulTime schiena schiena bravo ok vai gioco chiudi chiudi schiena chiudi chiudi bravo Un applauso.